Dopo lo stop causato dalla pandemia, a Cava dei Tirreni ritorna la Notte Bianca con la sua diciottesima edizione. Artisti di strada, animazione per bambini e tanta musica, le strade della città salernitana torneranno a riempirsi di allegria e divertimento per accompagnare lo shopping e l'inizio dei saldi. L'appuntamento è per il 5 gennaio 2023 con l'evento che, come afferma l'assessore alle attività produttive di Cava dei Tirreni, Giovanni Del Vecchio, rappresenta il segno della rinascita economica e sociale della nostra città. Si parte alle 19 con tante attività per i bambini aspettando la Befana e spettacoli itineranti. Punta di diamante il concerto in piazza di Enzo Abitabile e Bottari alle 22.30, seguito da quello di Matte Sentieri, vincitore di Sanremo Giovani, e dal DJ set di Marco Montefusco. Prologo al grande spettacolo della Notte Bianca 2023 sarà l'incontro che il grande Enzo Abitabile terrà alle ore 18 nell'aula consigliare di Palazzo di Città con i giovani. Un momento di confronto e di conoscenza con un artista che ha portato nel mondo il suo particolare stile partenopeo, dai ritmi soul, jazz e blues. Un genere unico, ricco di contaminazioni, che renderà la Notte Bianca di Cava dei Tirreni un evento imperdibile.